ma in questa vai quando apri te lo metto come invito mettigli giù questo mettigli giù di traverso no così resta giù di rita stavamo facendo il lavoro in corso vai Vito vai a vedere come fai allungarlo ma non l'allunga lui ma non l'allunga lui lui lo segue tu gli dai coltetti però ora se colpo lì guarda di capogli non vuole che io sacco togli il sasso ti faccio vedere come si fa con la sua no di che non ti regalo mai niente sei l'urtiga arriva su e ferma perché è bassa arriva su e ferma hai vinto hai vinto ma mi fermo quella ruota giù si poi la coppa sopra per vedere in settore poi vai in settore ti ascolta poi fai quello che vuoi ma io mi sono permesso di aprirti la macchina per prendere la telecamera ci mancherebbe anche perché oggi c'era la prima non c'è ma dopo Luigi mi fa ma c'avevo la batteria da dare infatti eh ma ma niente lo sai che è lì così apposta eh lo sai che è lì apposta eh infatti ho provato l'ho provata lì eh ascolta vedi che tocca anche la sua si tocca lì no se arrivo qua giusto tocco eh se fai come fa lui tocchi anche te io arrivo qua io ho col petto per la lungo ecco come devi fare anche te perché hai vinto che tocca anche la sua io me ne vado ciao gente la mattina che mi alleno e mo siamo giù e mo io tornerei indietro brava sei già su arrivi lì giri e torni indietro fai un po' il lato bravo se ti rialzare la per me a lei basta per me oh ti metto lì dove lì c'è 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 perché così non c'è il buco ma tanto il buco non lo vedi eh sta chiudendo il buco ma non serve a niente ma non si possa fare il lavoro intanto che uno in zona eh no io non leggo la partita tanto se c'è una cosa io lascio andare tu ah ma si mette male è meglio di qua eh io non la farei né di qui né di là poi dite quello che volete non me ne seguo lì c'è anche i materassi dove dormiva quello la si è stato lui che mi ha mi ha impaltato tutto non ti tocca solo dove ce la segui ti da problema qua ma hai detto mattina tranquilla al campetto ma sta cura